Questo non posso accettarlo, Mike Shosha mi ha superato, dobbiamo andare avanti Allora l'ultima volta c'eravamo fermati a Team Ghost che mi si era bloccato, adesso la riprendiamo e proviamo a finirla Ieri stavo curiosando su Youtube e ho visto che c'era tipo il tredicesimo episodio di una puntata di questo tizio che provava a fare la campagna di Modern Warfare Ed era la mia missione, poi l'episodio dopo era il quattordicesimo ed era la fine, quindi ciò mi fa presuppor rischiere che siamo vicini alla fine Ecco dove c'eravamo fermati, sono tornato più forte che mai, pezzi di merda, ora mi distruggo di mazzate Pensavi davvero di potermi uccidere? Oh cazzo No, figlio di troia Fuori, è crepa Oh, provo a salire Quanta gente Aiuto Potremmo aprire? No, fregni a starmo No, mi serve la mia però, mi serve la mia Mori, stanno pure qua sotto, crepate Madonna mia Fai colpire quel veicolo dall'elicottero Ah, ok Ti chiedo supporto Ok, bersaglio marcato Bersaglio acquisito Fuoco Buona fortuna E' fin qua L'avaggio Forse Graves è lì Rudy, che si fa? Sfondiamola Beh, potete ingaggiare liberamente Se c'è Graves Sparate Repa Eh zitti un po' Sto pompa è allucinante comunque L'ho detto che lo devono nerf Libero Esatto Tengono pareglia nell'hangar 3 Dobbiamo arrivarci senza farci notare Hangar 3 Ricevuto Ah, nell'hangar 3 Quindi quello Vabbè, ma se li sparo che cosa fa? Siamo in guerra In guerra, in amore E' tutto permesso Sono sempre Contatto Dietro di te No, Aleandro Perché ti metti in mezzo ai coglioni? Mori Aiuto Repa No, ma come morizia di scarsa? No E' arrivato E' la stessa arma di prima Solo che non hai il miritto Vedo Campo libero Confermo Beh, non abbiamo fatto poco stealth Però tanto ci siamo arrivati Sti cazzo Codice 6-2-7 Valeria in un container dentro l'hangar Sarà ben protetta Facciamo silenzio Va bene Facciamo silenzio La porta ha bisogno di un po' di olio Non è 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 un po' di olio No, no Aiuto Ok Valeria 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 Vengo Benco Restiamo qui in attesa Che Shop, Ghost e Rudy Prendano Salta Ok E noi abbiamo irrotto Via, via, via Ho le piastre Aspettate, regà Ho le piastre Ho le piastre Fatemelo le mettere Stop Ma che fregno Non andrà lontano Si può non essere Da qua che fa Ok, abbiamo pure visto L'animazione delle piastre Via libera Sembra Alla sala di controllo C'è un'uscita sul retro Graves deve essere passato di lì No, datemi il pompa Forza Troviamolo A sotto le unità Graves ha oltrepassato il muro Colpiti Cazzo Price Prendiamo Stiamo precipitando Capo Non è andato a finire Prendiamo Ghost, pieni No Raggiungo Price e il pilota Pensateci voi Guarda Non è nostro Oh, forse questa è la mappa Del multiplayer Oh, cazzo Ovvio Forse questa è la mappa Del multiplayer Ci sono le sacole C'è parecchia roba No Top Questo non è un gioco Sapete Se volete giocare alla guerra Allora giochiamo alla cazzo di guerra Chicos Una di voi merdine Sarà schiacciata per ultima Chi sarà? Ma se ti biò Vaffanculo Graves Amado RPG Buono Ma è buono Il culo Non ci posso credere È stato più semplice del previsto Che sei ancora qua, Valeria Che passò, baccherito di mierda? Cominciaste una guerra? Ti persigui la violenza a tutte le parti Mi cagli Noi si hanno incontrato contigo Fero' ellos Esa fu tu cagata precisamente No Sapevi che c'era un terzo missile Oh, non li ho contati Lo fanno altri per me Cazzate Dove è essa? E dove è l'altro missile? Diccelo o te lo mettiamo in bocca Il fucile per spararti Contro la rovescia L'attivo principale è il 56esimo piano È ben fortificato Con pochi accessi Hassan potrebbe essere rinchiuso lì Ok, arrivati Contro, andiamo a scontare Mi lanciate questo figlio di Troy Bravo sei Vado al punto d'aggancio Se io mi lancio Ah, qua Ho sparato un colpo Verso una direzione La cazzo di cane Ha preso proprio lo staglio Ok Qua, una pacchia Libero Oh, sti ostaggi di merda Quattro nemici più avanti Tre nella stanza Uno nel corridoio Tre nella stanza E uno nel corridoio Quattro nemici Falli fuori Vaffanculo Ha non ucciso nessuna stanza Libero Quei nemici al prossimo piano Tre in movimento Due fermi Ho ingaggiato anche prima Però vabbè Faremo finta di niente Cioè stanno cinque Questi erano quattro Quindi ecco l'altro Poi morire Ok, fammi cambiare Com'è possibile che riesco a fare questo Non lo so Però va bene Sono un fottuto granchio Mutaforma Carica piazzata Allontanati Vai Ok Entriamo in una maniera Molto storta Vai C'è uno Siamo al piano obiettivo Situazione Backflip Allucinante Siamo in tasse Tieni presente che i comandi Non sono nel container Vuol dire che lì a Hassan Stiamo avanzando nell'aria bersaglio Chiudo Qui i comandi ci servono Speriamo che Hassan sia qui Fuori Ok Ha battuto Figlio di Troy Libero Negativo Stava Perché Hassan sta usando la sala server Il posto più sicuro del dirigente Oh Avanti E' da niente Un po' di merda Ok Tutti con sto pompa di merda No Bryce Bryce non si vede da un anno E torna solo per rompere i conti Vai Bryce Se ne andavanti mi sa Ok Cosa è qua? Munizioni Vedi Porca troia Ma è durissimo con suo Ok C'erano ostaggi A parte lui Però vabbè Lui può morire Gli altri no Mi si Martello d'oro Porca puttana Non c'è No ti prego Vedo la sala di controllo A tutte le unità Negativo su Hassan Niente nella sala di controllo Ghost Trovato niente? Sì Possibile contatto 46esimo piano Ricevuto Arriviamo Andiamo Grazie Stai indietro Potevi metterti anche un po' più qua per stare al sicuro No? Ah Aperto là Entra Non posso Soprirti Eh ma Non Non si rompono Stai minchia di finestre Non mi date i tasti Vai Ok Vado direttamente là Fatto Malissimo 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 Price Hai fai qualcosa Aiuto Attenzione Unità Bravo Hassan Sta scendendo Dalle scale Ah ok Con me e sergente Andiamo alle scale E chiudo E dove stava scendendo Di sotto Presto Lo stronco di piombo A tutte le unità Il missile è in partenza Ripeto Il lancio è imminente Oh Ce l'abbiamo fatto Da salone No Oh Dica puttana Ok Noi inseguiamo Hassan Di qua Sargente Vai Kaz Dov'è Hassan? In fondo al salone Hassan è dietro Quelle porte Sì Distruggo tutti Morite Dov'è Trovo uno stunnato Va benissimo così Non è vero Mi sembra bello che lontano Dov'è Hassan? Dov'è? L'abbiamo intrappolato qui Aprile sta porta Se la stane qua dentro Lo sfondo di mazzate Come usate Merda Su scema Pagliacci Cazzo Aiuto Kaz E' lui Hassan Che sei a fa Kaz Oh man Rimane solo lui Ammazzatelo Tutto bene Sì Tu vai Puoi farcela Non pensare a me Soldato Watcher Hassan ha i comandi del missile Lo seguiamo Va avanti Sergente Hassan è nell'ultima cabina Porca troia Un attimo coglione Tanto ci sono E arrivo Non reggerà Salta tu No Coglione di merda E qua alzati No 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 Sei morto No no Corri via Apri i comandi missili Ma porca montagna Ma mi stanno sparando in 25 Cosa apri i comandi missili Sei morto Aiuto Corro via Corro via Corro via Corro via Per scivolare Mentre Adesso me lo dici Piano in costruzione Comandi recuperati Ho perso l'altra Come non farti vedere Mi stanno disintegrando di mazzata Apri i comandi Quando sei pronto Ok Sono nascosto ora Ok sono pronto Che devo fare Merda Il bersaglio è di sì Coordinate 38 Negativo 77 Corrisponde al pentagono Punta Shepard No Shepard non c'è Lui no Ma altre 30.000 persone Sì Completate la missione Non passa 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 Porca troia Quanto dura St'animazione Dammi un attimo Sfondo di mazzata E altro che Tutuazioni Ok Eccomi Premi GLR e mode Allo stesso tempo Control e mode Allo stesso tempo FC Sono dentro Ora serve l'override Non ha funzionato Sei sicuro Oddio Terza colonna Sei Come non funziona Quale cazzo avevo messo prima Quattro Dai Uno Ecco Sierra Papa È andata Oh grazie a Dio Quindi DF Ok Cerca un posto sicuro La prossima fase Sarà rumorosa Vabbè sono nei cessi Chi va a controllare i cessi Devo spostarmi Oh striscia La notizia Ok Ok Che faccio Andiamo Ultimo passaggio Premi link Quando la luce verde È nella quarta posizione È esploso Ricevuto È un piacere fare affare con te Porca puttana Via 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 Ma dai Sto coglione È entrato proprio in sto momento Eh Non poteva essere in qualsiasi altro momento Dobbiamo sbrigarci Ah Ok Che faccio È esploso Fatto Ricevuto L'aeronautica Confermerà Grazie Sergente Sì È un piacere fare affari con te Laswell Dov'è Hassan? Non è solo Oh quanto Dai Esci Ma perché non Tutti Così finalmente L'avrò in pugno Bel lavoro Johnny Questa è la parte difficile Era quella La parte difficile Scoprì Devi restare vivo Eliminare le guardie E uccidere Hassan Ci dove stare qua dentro Taglierino Wow Un culo allucinante questa ragazza E ha pure fatto salva checkpoint Stop Mori Veloce Hassan Mi ha ucciso Hassan Non lo fare Aia Sono nel paradiso Te l'avevo detto Che la vostra nazione Sarebbe bruciata Pensi di potermi fermare Beh oddio L'abbiamo già fatto Solo che te l'abbiamo dovuto liberare Guarda la finestra Cazzo Non è un attacco È un'invasione Dai 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 Fallo fuori Fallo fuori Devo prendere la mira io Siamo a posto Direttamente Devi solo crepare Colpo perfetto tenente Avevi ragione sergente A tutti Hassan è morto Nemico ucciso Ora di prima Le autorità confermano Che un guasto elettrico È stato il motivo Dell'esplosione Nel centro di Chicago La scorsa notte A causa dei forti venti Che hanno lasciato al buio Migliaia di residenti Noi che abbiamo fatto un casino La fornitura sarà ripristinata In serata Tra le altre notizie Che merda la CIA Mi ti sono Alla testa che cadranno Prendisi con la bottiglia Dell'acqua chiusa Perché sono staglia E non avevo sentito È scomparso Ah lo troveremo C'è un pesce più grosso Kate è finita No Non lo è No è finita Lavorano come una nuova No è finita Che è? Non sappiamo il nome Non è nuovo Agosto ha la maschera Ma chi è? Makerov Oddio Però per ora Per ora ho finito Basta ragazzi Ve lo giuro Non ce la faccio più Allora che cosa ne penso Di questa campagna? Fa cagare Però bisogna ammettere Che è un prodotto Qualitativamente parlando Molto alto Non mi è dispiaciuta Però Non la rifarei molto volentieri Ecco Le missioni magari Sono un po' troppo stealth Queste due Porca puttana Distruggetele Disintegratele Se la serie vi è piaciuta Lasciate un bel mi piace Datole una bella venata Se volete condividere il video E noi come la storia Ci rivediamo Ad un prossimo video Bella Ciao